Come ti chiami? Stefano Beltrano, 1993, attaccante In pezzo porti del tuo cartoglio? La velocità, saltare l'uomo, cambio di passo, dritto Beltrano è con il testo! Frey! Stavamo per vedere un esordio pazzesco di Stefano Beltrano Dove deve migliorare? Migliorare fisicamente, colpo di testa E chiede meno acqua Che cosa sogni per il tuo cartoglio? Fare il calciatore E mettercela tutta per provare a vincere tutto da calciatore Pensi di avere l'X Factor? Penso di avere l'X Factor perché ci lavoro giorno dopo giorno E cerco sempre di tenerlo costante Beltrame ce la può fare perché a tanta qualità Ha trovato la cultura nel lavoro e può arrivare bene L'obiettivo è giocare alla European squadra Per me sì Per me è un grande Per me è un bel Grazie a tutti.